ciao nei miei vari esperimenti che faccio in photoshop di recente mi sono imbattuto per caso in un bell'effetto che vorrei mostrarti in questo video oggi e l'ho chiamato effetto mosaico è un effetto che puoi applicare a qualsiasi soggetto io ad esempio in questo caso aperto l'immagine di una ragazza ma tu puoi utilizzarlo per qualsiasi soggetto appunto dunque ho aperto questa immagine come risoluzione ho un 150 pixel pollice colore rgb la prima cosa da fare è andare nel menu filtro alla voce effetto pixel selezionare mosaico ora la dimensione della cella dipende della risoluzione che usi nelle tue immagini in questo caso una dimensione cella 20 direi che può andare bene quindi clic ok adesso con il pulsante crea nuovo livello aggiungi un livello sopra allo sfondo vai a selezionare lo strumento linea che se non trovi è tenendo premuto il mouse è sotto negli strumenti nascosti dello strumento rettangolo strumento linea verifica che sia selezionata questa icona che è riempi pixel e come spessore imposta due pixel controlla che il colore in primo piano sia nero e vai a tracciare la linea tenendo premuto il tasto maiuscolo tracci la linea lungo tutta tutto il la tua la larghezza del tuo documento poi con la serata in fondo rilasci il mouse ora seleziona lo strumento sposta e vai a posizionare la tua linea in cima al primo quadrato diciamo la prima tessera che è stata creata con l'effetto mosaico in questo modo ora premi la combinazione di tasti comando opzione t facendo questo verrà attivata la trasformazione libera ma contemporaneamente se andiamo a trascinare la nostra linea puoi notare che viene duplicata quindi con il tasto maiuscolo premuto trascina la linea fino ad arrivare alla testa del secondo della seconda linea di quadrati diciamo e premi invio per confermare ora utilizzando la combinazione di tasti comando opzione maiuscolo t o ctrl alt maiuscolo t per pc come puoi notare la nostra linea viene duplicata ma contemporaneamente viene spostata dello spostamento che hai effettuato prima quindi comando zero o ctrl 0 per visualizzare tutta la foto continua a premere la combinazione di tasti che ti ho appena detto e come vedi la tua linea viene duplicata sempre dello stesso spostamento che hai effettuato sulla sulla prima molto bene ora fatto questo spostati in basso nel pannello livelli e tenendo premuto il tasto maiuscolo vai a selezionare anche il primo livello contenente la tua prima linea creata quindi in questo momento hai tutti i livelli contenenti le linee selezionati assieme ora con la combinazione di tasti comando e o ctrl e unisci in un unico livello i livelli che hai selezionato in precedenza ora trascina questo livello su l'icona crea nuovo livello per duplicarlo con la combinazione di tasti comando t o ctrl t attivi la trasformazione libera vai nella barra delle opzioni e qui dove trovi il simbolo dell'angolo digita 90 gradi premi invio per confermare il numero che hai inserito e ora andando a trascinare i quadrati alto e basso del della nostra selezione della trasformazione adatta le linee all'altezza del documento premi invio per confermare la trasformazione seleziona l'altro livello con le linee e con la combinazione comando g o ctrl g raggruppi i due livelli in un unico gruppo ora volendo potresti inserire ad esempio creando un nuovo livello un fondino colorato andiamo a scegliere un bel colore bordeaux seleziona lo strumento sfumatura e verificando di avere selezionato l'icona sfumatura lineare traccia la sfumatura sopra alla tua immagine possiamo puoi anche allungarla con lo strumento sposta e la combinazione di tasti comando t o ctrl t per pc puoi allungare la tua sfumatura premi invio per confermare la trasformazione potresti provare a spostare le linee sotto la sfumatura oppure lasciarle sopra e eventualmente cliccando la freccia del gruppo ti vengono mostrati i livelli contenuti nel gruppo o eventualmente andare a cambiare colore alle tue linee quindi clicca su un livello delle linee blocca i pixel trasparenti vai a impostare come colore di primo piano il bianco e con la combinazione di tasti opzione cancella o alt backspace per pc cambi colore alle linee fai lo stesso per il secondo livello delle linee blocca i pixel trasparenti e cambia colore ecco questo è l'effetto mosaico direi che se non so ad esempio si abbina bene per creare sfondi per manifesti e a me personalmente ora ho già creato una base di testi a me personalmente ispira la copertina di una rivista adesso per evitare che queste linee confondano troppo la nostra composizione potremmo andare ad esempio ad aggiungere nel gruppo delle linee una maschera di livello e con lo strumento sfumatura impostato da nero a trasparente andare a mascherare il nostro livello con le linee bene il video termina qui anche tu continua a sperimentare e a provare nuove tecniche con Photoshop per il momento ti saluto ciao da Gianmarco alla prossima